Non si può trasformare la via verde nella via delle bancarelle. A dirlo sono Arci, Stazione Ornitologica Abruzzese e Forum H2O che hanno diffidato la provincia di Chieti per fermare l'approvazione del regolamento in base a cui la via verde della costa dei Trabocchi potrebbe trasformarsi in un mercato ambulante di 40 chilometri. La provincia infatti vorrebbe introdurre norme per l'occupazione temporanea o permanente delle aree contigue alla pista ciclabile in costruzione ma questo per le associazioni è in contrasto con la legge regionale 5 del 2007 secondo cui l'intero sedime dell'ex tracciato ferroviario è destinato al verde e per questo chiedono l'intervento della regione e della sovrintendenza. La provincia ci ripensi e faccia marcia indietro dicono Arci, SOA e Forum dell'Acqua secondo cui l'iniziativa provinciale è illegittima anche per la mancanza di procedure partecipative e valutative pubbliche. Questa è una concezione degli spazi pubblici e dell'evoluzione turistica dell'area, fanno sapere dalle associazioni, preoccupante e ben poco lungimirante.